ragazzi buonasera bonsoir 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 questa è un'altra diretta che ho improvvisato stamattina ve l'ho detto stamattina in realtà non sapevo di volerla fare però poi ho detto dai 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 facciamola facciamola e quindi stasera nella come potete vedere sono in una casa marinara sono sono a ponza e eccola fede buonasera sono nella mia nuova casa marinara di ponza e faremo questa si è bloccato già se ogni tanto si blocca è normale perché qua la connessione a ponza è un po ballerina che state facendo che cosa state facendo oltre che guardare i miei stati pranzando state cenando che cosa state facendo allora dunque stasera parleremo di un argomento innanzitutto saluto le persone che sono collegate fede la mia dea rosa maria e grazie maria antonia raffaella alessio lisa lisa rita lucia alessio ok mamma mia quanti siamo ok allora stasera voglio toccare un argomento un po particolare e praticamente siccome parlo spesso con con tante donne buonasera sabrina e buonasera christian che si sono collegati parlo spesso con tante donne che sono un po diciamo confuse su come diciamo interagire con questi uomini così come noi così come gli uomini sono sempre un po diciamo confusi su noi donne insomma sono sempre sono sempre due mondi che non si capiscono tanto e quindi il mio intento è quello di è quello di di unire questi due mondi perché c'è troppa divisione tra uomo e donna e non va bene dobbiamo già già il mondo se ne sta andando già il mondo è diviso di suo poi insomma se c'è divisione nelle relazioni insomma non va bene la mia missione è proprio questa di portare armonia facendo conoscere agli uomini il mondo delle donne alle donne il mondo degli uomini soprattutto quindi allora quali sono queste cinque cose che fanno innamorare gli uomini a me piace tanto ricercare e quindi sono andata proprio a vedere quali sono queste cose che ci rendono così attraenti agli occhi di un uomo voi siete curiosi innanzitutto se ci sta qualche maschietto e sicuramente ci state che mi state guardando scrivete qua nei commenti che cosa è che vi fa innamorare di una donna ok quindi io vi dico queste cinque ragioni e poi se c'è qualche maschietto me le scrivi nei commenti così possiamo anche interagire questa cosa diventa più divertente allora il primo che cosa ha detto luca facile per la maggiore basta le esci basta le esci non ho capito scusa luca allora la prima cosa ripeti perché non ho capito allora la prima cosa diciamo che che rende un uomo che fa sì che un uomo si innamori e che prima di tutto deve essere emozionalmente pronto che cosa significa ciao Anna buonasera che cosa significa allora innanzitutto è stato fatto uno studio e hanno visto che gli uomini in realtà a differenza di quello che pensiamo noi donne gli uomini si innamorano molto più facilmente delle donne e anche io non non credevo questa cosa invece gli uomini si innamorano è stato scoperto è stato studiato che si innamorano più facilmente delle donne ma secondo questi studi ci devono essere però dei presupposti affinché l'uomo si innamori e noi donne tante volte ci facciamo un sacco di film mentali e perché magari iniziamo ad uscire con qualcuno e e iniziamo a pensare oddio che bello esce con me quindi è innamorato di me e invece no perché molto spesso c'è c'è un presupposto per cui un uomo diciamo può considerarsi pronto emozionalmente buonasera e buonasera fiorenza in allora innanzitutto devi ascoltare come fai a capire se veramente innamorato innanzitutto devi ascoltare le sue parole se lui parla sempre di lavoro e poco di relazione quello lì è un campanello d'allarme perché partiamo da questo presupposto l'energia maschile l'uomo rappresenta l'energia maschile ovviamente anche l'uomo ha energia femminile però l'uomo è più energia maschile prevalentemente energia maschile l'energia maschile è a me piace tanto parlare di questo mondo di energie maschile e femminili è l'energia della missione dell'energia della della concretezza per l'uomo la cosa più importante me lo possono confermare i maschietti che sono qui presenti maschietti non mi piace dire che sembra che siamo all'asilo gli uomini le energie maschili qui presenti possono confermarmi che la cosa più importante per un uomo è la sua realizzazione professionale perché l'energia maschile rappresenta proprio la missione ok se un uomo magari ha una relazione però a livello lavorativo devo passare un lavoro lavorativo perché sto in un condominio non vorrei disturbare troppo se un uomo praticamente ha una relazione però non ha un lavoro stabile che gli dà quella sicurezza interiore purtroppo non riuscirà ad innamorarsi facilmente questa cosa a me è capitata diverse volte insomma con diversi uomini che magari non avevano cioè stavano diciamo si stavano realizzando nel momento in cui mi hanno conosciuto e purtroppo sebbene fossero interessati a me non non si è concluso nulla perché io ho capito infatti poi ho diciamo preferito io abbandonare la situazione ho capito che per quella persona in quel momento era molto più importante prima realizzarsi come la a livello lavorativo e poi e poi magari pensare alla relazione un uomo rappresenta l'energia maschile rappresenta la sicurezza la stabilità noi donne da un uomo vogliamo non è che li vogliamo sfruttare a livello economico però sicuramente un uomo diciamo per sua natura non si sente portato a cioè è proprio una cosa istintiva no a livello di istinto non sente di poter garantire quella stabilità alla donna di protezione ok è una cosa molto arcaica in realtà e di conseguenza proprio a livello istintivo è come se ci fosse una repulsione verso la relazione poi ovviamente ci sono anche le eccezioni però di solito è così quindi se tu noti comunque lui parla spesso di problemi di lavoro di lavoro quello già è un campanello di allarme che ti deve far capire che comunque non magari per il momento non ci sono i presupposti per quella relazione allora vediamo che cosa mi avete scritto intanto se volete scrivermi qualcosa potete scrivermi allora vincenzo ha scritto mi ha incuriosito molto l'argomento poi ho visto te ho capito tutto forse anche i discorsi diventano a questo punto inutili vincenzo non ho capito cosa vuoi dire vabbè comunque e allora quindi la prima cosa importante per un uomo è la missione e poi viene l'amore ok quindi noi donne tante volte che cosa facciamo aspettate che abbasso un po perché sento che mi sto un attimo con la testa quindi noi che cosa facciamo noi donne tante volte tendiamo a forzare la situazione cioè a voler per forza far sì che l'uomo cioè a convincere l'uomo praticamente ad innamorarsi di noi ma questa cosa qua non è possibile perché se lui ha questo pallino del lavoro inutile che ci incaponiamo prima di tutto perché poi soffriamo noi e poi è giusto lasciarlo diciamo lasciare lasciarlo a vivere nelle sue tappe ok prima viene la tappa della realizzazione professionale poi quella della della realizza della dell'amore dell'innamoramento intanto scrivetemi se siete d'accordo se avete sperimentato qualcosa del genere nella vostra vita poi un'altra cosa diciamo la seconda quindi questa abbiamo parlato della prima cosa che li fa innamorare quindi il fatto di essere emozionalmente pronti e se c'è questa se c'è questo blocco diciamo che non non si riesce ad essere così aperti ok si pensa soprattutto alla 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 missione grazie vincenzo ok e allora la seconda cosa che che fa innamorare una persona di te è il fatto che l'uomo si deve sentire emotivamente al sicuro con te che cosa significa questa cosa allora noi donne come energia femminile cerchiamo molto una sicurezza dal punto di vista fisico infatti non so me lo potete confermare voi ragazze che di solito noi tendiamo ad innamorarci degli uomini che comunque hanno non so delle spalle larghe un fisico diciamo robusto cioè perché noi cerchiamo proprio una protezione a livello istintivo a livello inconscio cerchiamo una protezione e quindi l'aspetto fisico cioè non l'aspetto fisico intendo che ne so se profuma o se è bello ma proprio la prestanza di solito per esempio io è raro che mi possano piacere gli uomini gracilini perché non mi danno istintivamente come donna come energia femminile non mi danno un senso di di stabilità di sicurezza anche se magari sono stabili col lavoro però io preferisco l'uomo primitivo quello che proprio è prestante fisicamente che è una solidità insomma che è robusto e invece gli uomini hanno hanno bisogno più che altro sì ovviamente l'uomo guarda anche la bellezza ma guardano anche la sicurezza emotiva cioè praticamente se può che significa tradotto in soldoni se possono essere vulnerabili con te allora vediamo che cosa sta dicendo raffaella ma se già realizzato il lavoro se già realizzato lavorativamente ti parla di lavoro significa che non gli interessi e raffaella bisogna vedere bisognerebbe vedere magari gli puoi fare delle domande tra l'altro dopo alla fine di questo di questo video dirò che comunque voi vi dovete sentire sicure di voi stesse e dovete anche diciamo domandare cioè non dovete aver paura di chiedere all'uomo quello che voi volete cioè di dire quello che voi volete di esprimere i vostri confini i vostri desideri e e di vedere non solo lui che cosa dice ma anche che cosa fa perché in un uomo sono importanti soprattutto oltre che le parole sono importanti le azioni infatti c'è una canzone bellissima di john legend che è un cantante che io adoro che dice actions aspetta come dice ok actions speaks louder the love songs dice le azioni parlano più forte delle canzoni d'amore e dice I've been doing it wrong ho sbagliato tutto non ci ho capito niente perché una noi donne vogliamo vedere le azioni ma non perché noi siamo esose e siamo esigenti e siamo cacacavole ma perché semplicemente l'energia maschile e l'energia dell'azione non della parola noi donne siamo più chiacchierone siamo più così etere e l'uomo che invece la parola è l'azione quindi tu Raffaella dopo che gli hai espresso quello che tu vuoi vedi lui che cosa dice soprattutto come si comporta ok perché non posso darti adesso così un consiglio se non se non conosco la situazione da vicino quindi loro cercano una persona con cui confidarsi una persona con cui essere vulnerabili e questo quando è che succede di solito quando parlo con le donne per le mie sessioni di coaching private gli chiedo sempre ok tu cerchi un uomo che non sia freddo che non sia distante che sia aperto ma tu lo sei perché molto spesso il problema è che stesso noi non siamo quella persona che noi vorremmo attrarre cioè noi magari vogliamo attrarre un uomo che è aperto che emotivo che non è un orso però poi alla fine noi stessi non ci accettiamo cioè non siamo non siamo diciamo vulnerabili con noi stessi non ci amiamo non ci accettiamo per quello che siamo e purtroppo se l'uomo non si può sentire al sicuro con te non si può innamorare cioè l'uomo christian ciao christian top 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 si l'uomo praticamente ha bisogno della donna che è un porto sicuro per lui christian me lo può confermare dobbiamo essere un porto sicuro per gli uomini è uno spazio sacro cioè proprio vediti come uno spazio sacro dove lui si può confidare e questo perché perché gli uomini non non sono più abituati ad esprimere le loro emozioni infatti i bambini anche quando sono piccoli gli viene detto guarda tu non puoi piangere cioè gli viene persino quando piangono dicono ma che piangi ma tu sei grande sei un ometto non devi piangere quindi loro vengono piano piano abituati durante la loro esistenza a reprimere proprio a reprimere le loro emozioni a tenersene tutte per sé e questa non è una cosa buona e infatti anche con gli amici diciamo gli uomini non non parlano di di emozioni magari parlano che ne so del pallone non lo so del lavoro dei soldi tante volte mi diverto ad ascoltare non faccio la c'è un po' la spia però faccio un po' l'origliatrice mi metto ad ascoltare le conversazioni degli uomini e delle donne per vedere le differenze e spesso gli uomini parlano tanto di soldi parlano tanto di soldi di lavoro preoccupazioni cioè di cose pratiche materiali diciamo no ma è giusto che sia così mentre e quindi diciamo che anche con gli amici loro non è che parlano di di emozioni di sentimenti siamo noi donne che siamo più diciamo così che parliamo più di di queste cose così di emozioni e e quindi dobbiamo essere noi l'esempio di questa apertura di questa accoglienza affinché loro possano avere questa fiducia nell'aprirsi ok e spesso le donne si chiedono ok ma come posso diciamo essere io emotivamente aperta con un uomo però senza paura di essere ferita cioè senza rischiare niente praticamente e questa è una domanda che comunque parte già in partenza che non va bene perché comunque rischio c'è sempre cioè quando tu vuoi iniziare una relazione con un uomo c'è comunque di qualche cosa lo devi rischiare ok e e infatti devi devi rischiare perché devi comunque esprimerti e esprimendo di comunque tu c'è c'è del rischio ok c'è il rischio che questa persona se ne vada che tu la perda però probabilmente se tu la perdi questa persona non era la persona giusta per te concordi e infatti stamattina ho fatto una lettura dei registri acascici per la settimana nel mio gruppo riscopri la tua femminità congeo ed è uscita questa carta che è la carta di una dea che si chiama e dice salto di fede salto di fede salto di fede e dice devi rischiare e rischia e metti i veri desideri del tuo cuore in azione ok quindi lo dice persino questa dea a me piace tanto leggere i registri acascici non sono tarocchi che poi anche i tarocchi sono bellissimi però ci sarà tanta disinformazione ne parleremo in un'altra sede comunque ci sono queste idee che ci danno delle ispirazioni e questa è indice l'ipofet buttati ti devi buttare non devi aver paura di manifestare i desideri del tuo cuore se il tuo cuore ti dice delle cose devi esprimerle non devi aver paura di esprimerle perché che cosa succede al contrario che se tu non rischi ok se tu non rischi se tu stai sempre nella tua zona di comfort stai sempre castigata che nel senso che non sei mai te stessa cioè nemmeno tu non sei mai te stessa rischi di accontentarti di una persona che magari ti può dare un amore superficiale ok che poi alla fine tu ti rompi pure le scatole e alla fine lo saluti pure oppure ti accontenti rimani in un amore sofferente semplicemente perché hai paura di restare senza amore perché a volte è quasi diventa quasi una vergogna non avere un partner non avere un fidanzato è vero diventa quasi una vergogna perché ci stanno cioè dobbiamo mettere per forza la foto su instagram di noi che ci stiamo baciando con qualcuno oppure di noi che ci abbiamo quest'amore ediliaco però non è così io per me per esempio preferisco selezionare bene una persona che accoglie me stessa ok che mi accoglie che accoglie le mie fragilità con cui io posso essere me stessa cioè non c'è cosa più bella che trovare un amore che trovare un uomo che trovare una persona con cui poter essere te stessa infatti io nel mio percorso nel mio percorso di coaching aiuto proprio le donne a trovare degli uomini che sono veri degli uomini veri nel senso degli uomini che che ti accolgono così come sei infatti tra di voi ci sono delle ragazze che già stanno seguendo il percorso con me vediamo ari che dice ciao ari buonasera letto il sto diceva per salvarsi cioè non essere infelici non soffrire bisogna dimenticarsi di se stessi e l'unico modo per dimenticare se stessi è amare sì 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 bellissima frase bisogna perdersi bisogna bisogna dimenticare se stessi ma diciamo in un certo senso non dimenticarci però di quello che vogliamo veramente perché se ti dimentichi completamente di te stessa nell'amore comunque soffri non bisogna comunque perdere se stessi nell'amore bisogna perdersi nell'amore in un senso positivo cioè fondersi con l'altro essere uno lo specchio dell'altro essere complici non c'è cosa più bella che essere complici ma non una complicità che diventa una palla cioè nel senso una complicità in cui diciamo tu ti scocci dell'altro perché sai tutto oppure perché diventa una cosa piatta no una complicità di di intenti di in cui l'altro si sa che può confidarsi con l'altra persona con cui un partner sa che può confidarsi totalmente può essere se stesso può aprirsi può dire qualsiasi cosa di stesso senza paura di essere giudicato questa è la cosa più bella vediamo che cos'altro state scrivendo proprio vero paura di seguire il cuore per non soffrire bisogna dire quello che si prova sbloccare la situazione aspettate che mi ero bloccata dicevo bisogna dire quello che si prova sbloccare la situazione e poi attendiamo le azioni esatto le azioni fa esatto cioè comunque quando tu quando noi donne ci esprimiamo poi è come se praticamente la tua vulnerabilità come donna diventa un filtro diventa un filtro per la persona che diciamo che tu pensi che sia adatta per te cioè praticamente se tu sei vulnerabile più tu sei vulnerabile più tu sei aperta e più puoi selezionare tra virgolette diventa proprio uno strumento di selezione so è brutta sta parola selezione però diventa uno strumento di scelta ok di scelta della persona con cui tu vuoi veramente stare perché se tu vedi che tu ti apri e quella persona si chiude si allontana dice oddio 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 è troppa sta roba non riesco a gestirla cioè lui vedi che non riesce a gestirti che si chiude soprattutto che cosa può succedere quando non si sente ragazzi ditemi se si sente o se non o se non si sente sto parlando troppo piano ditemi se si sente per favore perché se no sto parlando abbacante professore siamo e smettila allora sì ditemi se datemi un feedback se si sente o non si sente si sente ok grazie ora sì forse stavo parlando troppo piano stavo dicendo che oddio mi sono scordata che comunque la vulnerabilità è uno strumento di scelta perché se vediamo che quest'uomo è cioè praticamente non riesce a gestire tutto questo 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 questa marea perché questo quello che mi piace dire delle donne è che noi siamo l'energia femminile è paragonabile all'energia del mare noi donne siamo come il mare e l'uomo è il fondale di questo mare che anche se viene scosso da queste onde comunque ritorna sempre ritorna sempre sul fondo e il nostro fondale cioè la nostra sicurezza no e e quindi mi piace mi piace pensarlo così ok e quindi la nostra vulnerabilità diventa proprio uno strumento di scelta del partner tra l'altro esprimerti come dice in ti aiuta ad essere più coraggiosa c'è proprio un esercizio di coraggio di coraggio di che cosa è coraggio di essere te stessa perché in questo mondo la cosa che è più difficile ragazzi e ragazze è essere se stessi e proprio essere se stessi e quindi ecco un'altra un'altra idea che era uscita stamattina era questa idea qua che si chiama brigitte brigitta che dice don't back down non non tirarti indietro e dice stand up for what you believe is right devi lottare cioè devi stand up vuol dire alzati per quello che tu pensi sia giusto cioè ognuna di noi dentro di sé ha dei confini sani che molte volte mettiamo da parte per paura sempre di perdere l'amore ma invece lei ti dice no guarda questa fiamma rappresenta i tuoi confini rappresenta quello i tuoi valori quello che tu vuoi per te stessa e non devi retrocedere cioè non devi mettere da parte i tuoi valori perché semplicemente qualcuno ti piace da impazzire allora dice per esempio che ne so tu hai il valore di fare l'amore con una persona soltanto magari dopo che l'hai conosciuta bene dopo che hai sviluppato un senso di fiducia forte verso quella persona che può essere un mese può essere due mesi può essere tre mesi però che succede che quando ci piace proprio pazzamente una persona che iniziamo a farci le pippe mentali che quella persona è la nostra anima gemella eccetera buttiamo nel gabinetto proprio ve lo dico volgarmente buttiamo a mare tutti i nostri valori e praticamente ci bruciamo ecco questa fiamma si brucia si spegne e tu dopo ti senti anche svuotata a me è successo tante volte senti svuotata e quindi dici vabbè ma io ho perso me stessa per un'altra persona che poi vai a vedere questa persona si rivela anche nella maggior parte dei casi soprattutto se tu acceleri i tempi e non la conosci bene si può rivelare una persona che in realtà non era adatta a te non so se vi è successo allora vediamo Fabiana che ha scritto ci sono uomini che parlano solo di sé dei loro problemi e del lavoro e non ti chiedono mai invece come stai tu ecco Fabiana quello lì è un campanello d'allarme si chiamano i cosiddetti in inglese red flags perché appunto io queste cose le studio molto dai questi cocci americani e queste red flags questi questi segnali rossi sono proprio quando l'uomo è molto focalizzato su se stesso parla sempre di sé non ti chiede niente è un uomo che magari è un egocentrico un narcisista che non sto dicendo che solo gli uomini sono così ma anche molte donne sono così proprio perché ci tengo a diciamo a come dire dire la verità e questo è un errore appunto che nessuno deve fare né gli uomini né le donne dobbiamo stare attenti a questi segnali madonna quanti cuori che mi stanno arrivando ma chi è? stavo dicendo dobbiamo dobbiamo stare attenti a a questi segnali ok perché vuol dire che l'uomo è centrato molto su se stesso e magari non è interessato in quel momento ad avere una relazione ok quindi tu praticamente vuoi vuoi avere una relazione con un uomo che ti accoglie appunto quando tu sei 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 vulnerabile non una relazione con un uomo che ti accoglie quando sei fredda e distaccata perché molte volte molte volte noi donne ci piacciono gli uomini che magari cioè a cui piacciamo soltanto quando siamo fredde e distaccate invece no noi più dobbiamo essere più vulnerabili proprio per vedere se quella persona è fatta per noi ok allora Luciana scrive verissimo Ari ha scritto a volte è ancora più difficile andare d'accordo con chi amiamo quando iniziamo una relazione con qualcuno entrano in gioco molte aspettative che non sempre vengono ma chi è che mi sta mandando tutti questi tutti questi cuori per favore aspetta bloccati un attimo perché mi stai distraendo non so chi tu sia però con tutti questi cuori mi stai distraendo allora aspetta Ari ha scritto a volte è ancora più difficile andare d'accordo con chi amiamo quando iniziamo una relazione con qualcuno entrano in gioco molte aspettative che non sempre vengono soddisfatte oppure nelle relazioni di tanti anni può succedere la stessa cosa spesso non riusciamo a comunicare all'altro il nostro affetto proprio come due persone straniere che parlano due lingue diverse importante imparare il linguaggio dell'altro sì bellissima questa cosa che hai detto infatti c'è un libro molto bello che vi consiglio ci sono anche i riassunti su youtube si chiama i 5 linguaggi dell'amore e praticamente parla di come ognuno di noi ha un modo di comunicare l'amore all'altro e ognuno di noi infatti ha il suo modo c'è chi per esempio lo esprime più con i regali chi ha bloccato dicevo c'è chi esprime di più l'amore con i regali chi lo esprime quindi più con le azioni chi più con il contatto fisico quindi con gli abbracci quindi chi ha bisogno di essere più abbracciato ci sono tanti modi di comunicare l'amore e questi modi possono anche variare nel tempo perché no quindi quello che dice Ari è giusto va imparato anche sia il nostro linguaggio di esprimere l'amore sia il linguaggio dell'altro ciao Anna buonasera abbiamo letto lo stesso libro e quindi dobbiamo essere però noi l'esempio dobbiamo essere noi l'esempio per gli uomini Fabrizio ha scritto comunque con le donne sono molto sfortunato non trovo quella giusta e poi su facebook conosci una ragazza è molto difficile ma pure dal vivo diciamo che no non è che è difficile ok non è difficile dipende da quello che tu fai dipende anche da come ti approcci perché se ti approcci in una certa maniera che magari allontana le donne cioè bisogna vedere pure come ti approcci Fabrizio ok bisogna andare ci piano e essere sensibili e delicati allora quindi noi con il nostro modo di essere diventiamo diventiamo l'esempio per loro cioè dobbiamo essere noi ad ispirarli con il nostro esempio e anche per esempio a ispirarli a comunicare per esempio se un uomo è arrabbiato con te per qualche cosa che è successo tra di voi tu lo devi spronare ad aprirsi e quindi a dire ok parliamone cioè non ti nascondere dietro la tua non ti nascondere dietro la rabbia cioè magari non in così però a dire sì a nascondersi dietro la rabbia e a comunicare che cosa lo ha fatto sentire diciamo male senza per forza perché tante volte io pure associavo il parlare per forza al litigio al conflitto invece non è così si può parlare anche in tranquillità semplicemente esprimendo noi come ci siamo sentiti per esempio questa cosa il modo molto femminile di comunicare che consiglio sempre alle donne con cui faccio coaching è di non attaccare l'altro cioè non dire tu mi hai che ne so mi hai sporcato la cucina oppure non mi hai fatto questo non mi hai telefonato io aspettavo la tua chiamata no un modo molto femminile di comunicare quello che diciamo noi vogliamo è dire quello che ci piace e soprattutto come ci sentiamo nello sperimentare una cosa per esempio ok ho visto che mi avevi detto che mi avresti chiamata non mi hai chiamato e mi sono sentita e dici come ti sei sentita mi sono sentita non so abbandonata oppure mi sono sentita triste non mi sono sentita capita qualsiasi cosa che tu hai provato basta che lo dici con quello che cioè senza però accusare ok perché ovviamente un uomo tenderà a chiudersi dentro di sé quando non si sente quando si sente accusato perché in quel modo replichiamo molto le dinamiche materne tu non hai fatto i compiti e quindi ti metto in punizione non ti parlo più oppure non hai fatto i compiti quindi stasera niente cena quindi non dobbiamo replicare la dinamica materna ma essere aperte cioè essere come dire semplicemente condividere il nostro sentire condividere le nostre emozioni rispetto a un evento che magari ci è successo che non ci ha fatto piacere Anna ha scritto adesso capisco perché quando mi viene mi vede piangere mi considera di più sì perché comunque l'uomo anche per sua natura è protettore diciamo gli piace proteggere gli piace proteggere e gli piace anche vedere questa nostra vulnerabilità cioè praticamente loro noi donne siamo per gli uomini l'esempio della connessione col cuore siccome loro per loro natura diciamo hanno meno accesso alle loro emozioni meno accesso al loro cuore mentre noi donne almeno le donne con un'energia femminile quando si era bloccava di nuovo dicevo noi donne le donne con un'energia femminile più spieccata hanno più accesso alle loro emozioni al loro sentire e quindi noi donne per gli uomini cioè gli uomini adorano proprio in inglese si dice craving gli uomini non vedono l'ora di stare a contatto con l'energia femminile per sperimentare di più le emozioni il contatto col cuore con l'anima no e quindi quello che dice Anna è giusto cioè nel senso gli uomini adorano infatti anche consolarci perché no aspettate un secondo che mi è uscito un banner e non riesco a vedere i vostri commenti quindi adesso devo un attimo attivare facebook perché altrimenti non leggo i commenti o altrimenti se mi aspettate un attimo aspettate ok ok ci siamo un attimo persi perché ho il telefono con la memoria piena e mi ha fatto un attimo disconnettere allora quindi che cosa stavamo dicendo quindi a livello energetico dobbiamo far capire all'uomo che lui non verrà punito perché si sta esprimendo perché sta dicendo quello che sente quello che pensa ma troverà una comunque una comprensione ok ovviamente se la cosa cioè se lui ci dice qualche cosa che a noi non ci sta bene lo dobbiamo dire però sempre diciamo con rispetto con sempre sempre partendo dai nostri dai nostri sensazioni dal nostro cuore senza mai attaccare ok quindi esprimersi fargli capire che esprimersi non vuol dire litigare ma semplicemente semplicemente venirsi incontro cioè trovare dei punti in comune soprattutto perché alla fine siamo tutti esseri umani eh quello che sente uno magari lo ha sentito l'altro in un'altra circostanza quindi non c'è da da accusare nessuno ecco anche se anche io mi arrabbio cioè nel senso quando litigo cioè comunque mi viene anche a me di a volte di 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 accusare di no ma perché sei stato tu che hai fatto questa cosa qua quindi non lo dovevi fare però poi rifletto sui miei passi di sì però anche cioè tu che cosa hai fatto per provocare quella reazione in lui quindi diciamo che c'è sempre c'è sempre un 50-50 non si è mai da soli a provocare qualche cosa ok siamo arrivati al secondo motivo mamma mia questa diretta pensavo fosse più breve invece siamo arrivati già cioè siamo ancora al secondo motivo ok e buonasera Melania buonasera chi si è connesso adesso si è connesso anche Orietta ciao Tony Luciana buonasera e Lorella allora il terzo motivo per cui un uomo si innamora è che è ricollegabile un po' al motivo precedente ovvero che può essere se stesso completamente con te e questo è un'altra sfumatura però diciamo di quella cosa che ho detto ed è più focalizzata sull'uomo e spesso sia noi donne che anche gli uomini che cosa facciamo soprattutto all'inizio di una conoscenza tendiamo a mostrare soltanto le parti migliori di noi stessi a far vedere quanto siamo fighe quanto siamo bravi al lavoro quanto siamo intelligenti tutte queste cose qua però nascondiamo le parti più le magagne le magagne le zone d'ombra tendiamo a nasconderle perché perché tendiamo a nasconderle secondo voi tendiamo a nasconderle perché abbiamo paura di essere rifiutati dicevo mamma mia mo se ci faccio vedere a questo che io sono pure una pazza sc*****a ecco ogni tanto si blocca dicevo se se noi pensiamo tante volte nella testa ci ronzano queste cose noi diciamo ma se ci faccio vedere che sono pure isterica e che sono pure una pazza scatenata poi questo cioè si allontana e quindi e questo lo pensa anche l'uomo e quindi sia l'uomo che la donna fingono scusate soprattutto all'inizio di una relazione e fingiamo perché fondamentalmente non ci accettiamo e quindi così come noi donne pensiamo non sono abbastanza figa non sono abbastanza sexy non sono abbastanza bella non sono abbastanza giovane così l'uomo pensa eh però io non sono abbastanza di successo non c'ho abbastanza soldi non sono abbastanza intelligente per lei e quindi tende l'uomo soprattutto a mostrare soltanto la superficie ok e invece noi donne che cosa possiamo fare per aiutare un uomo a sentirsi se stesso con te farlo sentire cioè celebrarlo per quello che è magari individuare anche dei suoi difetti ok per esempio che ne so una risata strana o un modo di fare particolare o che ne so un indumento che è un po' particolare che magari non lo so qualche cosa che riguarda delle sue insicurezze le insicurezze dell'uomo e dire ma guarda ma stai tranquillo cioè a me questa cosa piace è carina è divertente ce l'hai solo tua originale cioè comunque rassicurarlo rassicurarlo sulle sue debolezze sulle sue insicurezze di modo oppure per il fatto che magari che ne so non guadagna come lui vorrebbe tutte queste cose qua però insomma rassicurarlo che comunque va bene così perché fondamentalmente il segreto di una relazione è quella di di accogliere di accogliere l'altro così come quando l'altro si sente accolto così come allora quella è la cosa più diciamo che crea quel fuoco quando l'altro può essere si stesso e questa cosa può succedere soltanto quando siamo noi donne le prime ad accogliere noi stesse perché giustamente cioè per la legge dello specchio che è un'altra legge universale per la legge dello specchio tu non puoi accogliere nella tua vita un'altra persona così come se tu prima non ti accogli te stessa perché se tu non ti accogli te stessa non puoi accogliere nemmeno un'altra persona e questa cosa ti renderà ai suoi occhi una persona super attraente perché dice ammazza con questa qua io posso essere cioè anche lei accoglie persino i miei difetti ovviamente non sto parlando di difetti che per te che vanno a ledere i tuoi valori cioè non cose per esempio che sono irrispettose nei tuoi confronti ma difetti cioè sue insicurezze ok orietta dice ormai sono fuori da questo argomento come su un altro pianeta orietta sei tu che ti stai auto escludendo se vuoi sapere la verità ogni volta che ci sentiamo fuori dall'amore dall'innamoramento e perché comunque in passato sicuramente abbiamo avuto delle delle esperienze che ci hanno fatto soffrire e di conseguenza siamo rimaste scottate e e ci siamo tirate fuori noi ok ti sei tirata fuori da da questa dei giochi ok questo può succedere a qualsiasi età anche a 30 anni conosco delle donne anche degli uomini che dice no no adesso basta e mi voglio solo divertire e vabbè ognuno è libero di lasciare chiuso il proprio cuore ma comunque non con dei prezzi alti da pagare perché ovviamente se tu hai soltanto delle relazioni superficiali non ti sentirei non sentirei mai quella quell'accoglienza quella profondità che puoi sperimentare con una relazione vera rimarrai sempre in superficie quindi il tuo cuore anche sarà un po' arido e questo lo dico perché anche io ci sono passata perché non volevo più soffrire ho detto no adesso basta però era una vita in bianco e nero non era una vita a colori perché poi anche le altre emozioni non le vivi intensamente perché fondamentalmente si chiude proprio la fiducia nella vita la fiducia nell'uomo negli uomini o nelle donne rappresenta la fiducia nella vita la fiducia nelle persone e quando la fiducia nella vita viene meno tu non ti fidi più nessuno chiudi tutti i boccaporti e non e non vivi più bene cioè vivi praticamente vivi una vita del cavolo vivi una vita spenta una vita senza emozioni Orietta ha scritto sono parole molto belle e vere la legge dello specchio assolutamente sì assolutamente sì allora dunque dove eravamo rimasti quindi di celebrare l'uomo per i difetti che ha quindi celebrare anche i suoi difetti ok per farlo sentire al sicuro e soprattutto ecco come si può fare con la curiosità essendo curiosa verso le sue stranezze verso le sue quelli che lui chiama appunto dei difetti con la curiosità ok e quindi l'uomo che cosa che cosa succederà che se l'uomo vede che tu lo accogli nei suoi nei suoi difetti nelle sue parti nelle sue vulnerabilità penserà automaticamente questa è una donna di cui io mi posso fidare perché si sente accolto ok e e e quindi non non penserà più ok sono attraente soltanto cioè riesco ad attrarla soltanto quando ho successo quando quando vado a bene cioè quando il mio lavoro va bene no si sentirà diciamo attraente di suo cioè non dovrà fare nessuno sforzo ok per essere attraente verso di te poi intanto do il buona do il una buonasera anche a chris chris ciao chris è un mio mito e nicoleta ciao e sì orietta non ho nessun genere di relazione sono in un incontro la mia vita è ricca sì 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 no non sto dicendo che la tua vita non è ricca però magari ti stai precludendo qualche qualche possibilità allora il quarto il quarto il quarto motivo per cui un uomo diciamo si si innamora di te è è che lui sente dentro di sé di poterti fare felice ok lui sente di poterti fare felice e lo può fare soprattutto senza doversi sforzare di essere un'altra persona ok se lui diciamo poco poco annusa che deve essere un'altra deve sforzarsi di essere un altro ma anche per noi donne vale la stessa cosa cioè noi non stiamo bene con una persona con la quale dobbiamo fingere di essere strafiche oppure dobbiamo fingere di essere dobbiamo sforzarci di dimostrare delle cose cioè diventa tutto uno sforzo invece noi stiamo bene così come cioè questa cosa vale sia per noi donne che per gli uomini se qualcuno cioè se noi dobbiamo sforzarci di dimostrare qualcosa a qualcuno automaticamente cade l'attrazione ok magari può durare può durare un pochino però poi sfuma perché diventa uno sforzo dice vabbè ma io devo fare tutto questo sforzo per piacergli ok e che cosa come gli possiamo dimostrare che diciamo che lui può essere che lui può farci felici ecco senza senza bisogno di sforzarti dicendoglielo a parole perché molti uomini lo sentono a livello energetico ok però tanti altri uomini non hanno questa diciamo questa sensibilità questa sì questa sensibilità e quindi glielo dobbiamo dire noi a parole per esempio dicendogli mi sento al sicuro con te oppure adoro poter parlare con te di cose magari con cui non riesco adoro poter parlare con te di cose di cui con altre persone non riesco a parlare ok quindi è sempre buono esprimere a parole che noi siamo bene ragazzi ragazzi mannaggia mi dispiace ma stasera il telefono sta facendo un po' i capricci non lo so forse è l'area di ponza la ponza praticamente qua sono tutti molto scialli sono molto tutti rilassati e secondo me il mio telefono si sta adeguando al clima ponzese di sciallamento non so se si dice così però sicuramente si sta un attimo anche lui rilassando parecchio allora non vedo nessuno in diretta aspettiamo un attimo che arrivate aspettiamo un secondo che arrivate speriamo che non vedo chi c'è in diretta ma piano piano mi arriveranno le notifiche allora quindi che cosa stavo dicendo stavo dicendo che gli uomini vogliono capire proprio a parole se loro veramente cioè se tu veramente stai bene con loro ok se sono abbastanza per te ok lo vogliono capire a parole cioè lo vogliono proprio sentirselo dire ma così come anche noi donne amiamo sentirci dire che ne so come sei bene come sei bello oppure ti amo cioè la parola dire le cose con le parole è molto importante ho notato sia per gli uomini che per le donne e loro se per esempio a me è capitato una volta ho visto una scena in cui praticamente lui aveva fatto dei regali di Natale a lei e lei praticamente gli ha buttato il regalo di Natale e dice ma che cavolo tu non capisci niente non era questo quello che io non era questo il profumo che io volevo non mi sa insomma ho visto proprio negli occhi di lui lo scoramento lo scoraggiamento cioè mi è venuta proprio una cosa nel cuore a dire madonna santa cioè questo ti ha fatto tutti questi regali e tu non li stai non li apprezzi se l'uomo sente che quello che lui fa per te non è mai abbastanza perché tu certo i confini vanno bene però ci vuole un equilibrio cioè come se tu vedi che comunque lui si prodiga verso di te però a te non ti sta mai bene quello che lui fa questo li allontanerà ok questo li allontana è una cosa proprio ecco dicevo è una cosa super repellente speriamo che non si blocca vi prego mandate energia positiva perché stasera abbiamo un po' di problemini allora siamo arrivati al quinto punto ok il quinto punto è che loro per stare per innamorarsi di te valutano anche se tu sei a tuo agio con l'ambiente che li circonda quindi praticamente se tu sei a tuo agio con la sua famiglia con i suoi amici la sensazione che diciamo ideale da avere con la famiglia di un nostro magari futuro partner è quella di essere proprio a nostro agio completamente cioè sentirci parte quasi come se se sentiamo i suoi familiari come i nostri familiari questa sarebbe la situazione ideale cioè se lui vede che comunque tu sei a suo agio anche con la sua famiglia con i suoi amici questa cosa qui praticamente lui riesce meglio a inserirti nel suo mondo perché l'uomo un uomo con un'energia maschile forte adora cioè il suo scopo è quello di inglobarti nel suo mondo che è una cosa bellissima no? questo fatto che l'uomo cioè un uomo vero non ti terrà mai ai margini della sua vita lui vorrà sempre 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 includerti in qualsiasi cosa che lui fa quindi con i suoi amici con la sua famiglia quindi non è che ti sto dicendo che tu ti devi forzare a stare bene con i suoi amici o con la sua famiglia se ti trovi bene però è meglio nel senso è meglio per te è meglio per lui però tu non devi ecco lungi da me il fatto di dirti no però lo devi fare per forza cioè per forza devi far vedere che stai bene no se non stai bene non stai bene appunto glielo dici dici senti i tuoi non è che proprio ci vado tanto d'accordo però per amore tuo cioè magari gli voglio bene lo stesso però però ecco questa è una cosa molto importante per un uomo averti nel suo nel suo ambiente ok questa è una cosa che che dico pure a me stessa perché tante volte io sono un po' una lupa nel senso cioè io ho la mia cerchia di amiche ho la mia famiglia vorrei stare sempre solo con le mie amiche oppure con la mia famiglia e invece a volte mi devo un po' con forza e dice Gio magari cioè vedi pure un attimo di accontentare anche la la famiglia di lui insomma e pure perché ecco tante volte magari noi non riusciamo a costruire una relazione con la sua famiglia proprio perché non li frequentiamo perché magari abbiamo dei pregiudizi diciamo no ma che ci vado a fare ma non non ci andrò mai d'accordo invece no questa è una cosa molto importante e poi anche lo stile di vita per esempio può essere un problema se che ne so se tu sei vegana io ero vegana e lui magari è carnivoro e oppure se tu insomma devi scegliere anche in base cioè l'uomo sia l'uomo che la donna ovviamente cioè anche tu devi scegliere in base cioè se a te proprio ti dà fastidio stare con una persona che mangia la carne che magari tu glielo dici tante volte però a lui non gliene frega niente è insensibile quello lì è comunque un tuo pilastro ok adesso mi sto rivolgendo alle donne è un tuo pilastro e non lo devi mettere da parte soltanto perché vuoi far colpo su di lui no se per te essere vegana o comunque e rispetto della natura cioè io per esempio non potrei mai stare con un uomo un bifolco che che botta la mondezza in mezzo alla natura oppure che che tratta male gli animali che li picchia oppure che che tratta male le persone cioè io non potrei mai stare con una persona del genere cioè pure se mi pure se fosse il tipo ideale per me ma cioè ci sono dei pilastri veramente ragazzi ragionate tanto sui vostri pilastri perché questa cosa qui può aiutarvi anche nella diciamo nel selezionare cioè perché comunque voi con questa persona ci dovete passare tanto tempo ok mannaggia c'è uscito di nuovo elimina file quindi non vedrò i vostri commenti però se mi state scrivendo dei commenti vi risponderò dopo perché ho questo banner gigantesco elimina file quindi l'importante è anche avere i valori simili e poi non cercare di forzare la situazione agendo da da disperatone ma sempre di ripeto di di stare in connessione con quello che a te fa star bene e vedere se lui rispecchia questi tuoi canoni questi tuoi valori ok ok avrei tante altre cose da dirvi ma magari ve ne parlerò in altre dirette buonasera Paolino che bello se con me super Paolo ve lo dirò in altre dirette se mi avete fatto dei commenti li leggerò dopo perché vi ripeto ho questo banner enorme allora io sto inizio sto selezionando delle persone per fare dei coaching one to one con me personalizzati ogni mese purtroppo cioè purtroppo ne posso prendere poche 4 massimo al mese quindi se volete candidarvi per fare una sessione un percorso proprio di coaching per trovare degli uomini che siano in contatto con le loro emozioni degli uomini con cui cioè con cui volete avere una relazione diciamo vera autentica in cui vi potete sentire voi stessi e allo stesso tempo anche entusiasmanti perché non è che una cosa così può essere una palla cioè volete anche una persona entusiasmante una persona insomma la persona giusta per voi io sto facendo questa selezione ecco quindi potete compilare il form che vi scrivo che vi lascio qui sotto e verrete selezionate vi ripeto ogni mese posso prendere massimo 3-4 persone perché comunque ci tengo a lavorare bene con ciascuna di voi e quindi i posti sono molto molto limitati quindi questo questo è l'annuncio che volevo farvi se avete delle domande da farmi scrivetemi nei commenti e vi risponderò nei prossimi video e che altro vi auguro un buon inizio di settimana io spero di essere presente di più questa settimana non mi avete tanto visto perché ho iniziato questo nuovo lavoro a Ponza e niente vi auguro una buona serata ciao grazie a tutti